Beh, ti direi che è un segno dei tempi in cui viviamo, ci riempiamo un po' tutti la bocca, magari non sapendo bene neanche le situazioni, leggendole a distanza o facendoci tirare per la giacchetta dei giornali, quindi non sapendo bene le situazioni reali, concrete che ci sono dall'altra parte del mondo, maturiamo dei giudizi, siamo pronti a batterci, almeno a livello ideologico, e poi si sbraca e si accetta qualunque cosa. Ed è questa la verità. Siamo partiti con l'opinione pubblica americana, col fucile spianato verso la WB in Arabia Saudita. Il primo evento doveva essere definito a prescindere una merda da tutti. Se cantavi fuori dal coro eri da scomunicare. Poi, non fu un grandissimo show. A me, tutto sommato, non dispiacque perché ci vidi delle possibilità narrative che poi non hanno assolutamente sviluppato. Quindi, col senno di poi, quello che c'era di buono, il grasso del prosciutto, l'hanno buttato via insieme all'acqua sporca. Però alla fine è così. Ci vanno i musicisti, ci vanno gli attori, gli artisti, le partite di calcio, la Formula 1. Ci vanno tutti in Arabia Saudita. Hanno i soldi. E i soldi valgono di più di qualsiasi nostro valore. Magari qualcuno dirà no, non è vero. Io rimango sulle mie posizioni e non sostengo. Ma in realtà probabilmente stai già sostenendo a tua insaputa. Probabilmente stai comprando prodotti con partecipazione di aziende o di addirittura governi di zone del mondo dove ci sono leggi o culture che non approvi. Ma semplicemente questo. O non l'hai scoperto o ti è abilmente occultato. Quindi io non voglio entrare in questa discussione di là gli omosessuali li lapidano, le donne devono stare coperte, non hanno i diritti civili e quant'altro. Perché è complicato ed è più grosso di me l'argomento. E io chi sono? Nessuno. Però ormai è chiaro che lì c'è un epicentro economico. E tutti si inchinano al dio denaro. Perché tutti devono mettere il pane in tavola e tutti vogliono sempre di più. e demonizzare chi lo sta facendo, dicendo ah, le donne e poi le fanno lottare come canotti, vestite, coperte, beh, fa degli accostamenti secondo me ingiusti. Perché un'azienda, se da una parte può favorire o cercare di favorire il miglioramento di una parte sociale o di un tassello della società, dall'altra deve guardare anche al suo tornaconto. Non può perdere quote di mercato perché poi appellarsi ad un valore non ti riempie la pancia. E mentre lo può fare un religioso, un buon samaritano o una persona che decide di vivere entro determinati valori, una società ha al suo interno delle famiglie, dei dipendenti, ma anche dei dirigenti, è un bilancio che deve consolidare. Quindi se dovesse esserci una Vresta Almenia in Arabia Saudita, allargherei le braccia e direi è così che gira il mondo. Mi suonerebbe un po' strano perché io sono cresciuto come Vresta Almenia che è un qualcosa di irraggiungibile quando irraggiungibile fa rima con America. Quando io, e l'ho visto sin dalla prima, quando io ho visto la prima Vresta Almenia, pensavo al fatto che Vresta Almenia fosse su Marte. perché conoscevo una persona da ragazzino, da bambino di dieci anni, che era andata in America. Una, un amico di mio padre, che giocavano a carte assieme, che faceva l'osservatore di calcio, anche bravo, cioè squadre professionistiche. Lui era andato in America. Era stato il primo, forse, della mia città ad avere un telefono cellulare, per dire, proprio per il lavoro che faceva. e quindi mi sarebbe strano perché non è più l'America. Cioè, la terra dell'opportunità, il nuovo mondo, così lontano, l'America è irraggiungibile, beh, mi farebbe strano doverlo associare alla rabbia. Non tanto per la storia dei diritti, che ognuno la vede a modo suo e può farsi la sua opinione e può avere le sue idee sul mercato, su come gira, eccetera, ma sul fatto che non è più quel brand che associ, o associavo da ragazzino, da quasi adolescente, a qualcosa che da un oceano di distanza aveva un profumo che ti diceva perché non sei qua, dovresti essere qui. Con i film all'americano, i grandi campus, le scuole, gli sport scolastici, la vita che si faceva in quelle zone che sembrava molto più colorata rispetto a quella che si viveva qui. Quindi, la vedrei come una tradizione che scompare, una piccola parte del mio mondo, del mio ultimo centimetro libero, che va a fuoco. Ma non perché finisce in mano agli arabi, ma perché non è più in America, come ho imparato a conoscere, ad apprezzare e per molti versi ad amare.